10 minuti fa alle 15.15 tempo universale è iniziato un flare di classe X e questi flare hanno tempo scala dell'ordine dei minuti, della ventina di minuti. Quindi adesso quello che stiamo vedendo, la macchia AR3644, è quella che gli inglesi chiamano The Smoking Gun, la pistola fumante. Andiamo ad esaminare nel massimo dettaglio possibile se si vede questo flare in luce bianca. Ieri analizzando questa macchia alla fine, alla fine del flare di classe X1, che aveva fatto questa macchia alle 14 UT, quindi noi eravamo in realtà con molto anticipo, sembrava vedersi qualche forte attività, però a livello fotosferico, come se fosse preparatoria del flare. Adesso le stesse informazioni le potremo ricavare da questo video, analizzando i singoli fotogrammi, per cogliere il dettaglio più minuto che questo bel rifrattore dell'Icranet ci può consentire. Ecco l'osservazione che viene compiuta nell'osservatorio di Pescara.